Per avere una pelle radiosa e morbida, a volte non c'è bisogno di utilizzare costosi prodotti di bellezza, ma basta semplicemente guardare nella propria credenza. È il caso di questo fantastico peeling realizzabile con due ingredienti facilissimi da trovare ed economici, ossia il miele e l'aspirina. Per prepararlo occorrono una o due compresse di aspirina, un cucchiaino di miele ed un po' d'acqua. Potete aggiungere al preparato anche un cucchiaino di yogurt naturale, ma è opzionale. Procedete schiacciando le compresse di aspirina fino a polverizzarle e mettetele in una ciotolina di vetro. Aggiungete successivamente il cucchiaino di miele ed eventualmente quello di yogurt ed un po' d'acqua e mescolate fino a far diventare il composto omogeneo. Applicate poi il peeling sul viso e tenetelo in posa per 10 minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo, risciacquate bene la faccia frizionando il peeling. I risultati di questo trattamento saranno visibili dopo 3 ore dalla sua applicazione e non immediatamente, ma la differenza sarà molto evidente. Per la prima settimana fate il peeling per 2-3 volte, mentre dalla seconda in poi sarà sufficiente farlo una volta ogni 7 giorni. Per sicurezza, prima di cimentarvi in questo rimedio casalingo Beauty, è consigliabile escludere eventuali allergie o reazioni indesiderate sulla pelle, applicando il composto su una piccola porzione del braccio. Questo accorgimento è da seguire comunque tutte le volte che si prova un cosmetico nuovo, non importa se fatto in casa o comprato.